Voleva diventare un uomo Giovanna Rivoli, Gio per tutti, trovata uccisa in un fosso ammelito. L'hanno uccisa come un boss, un'esecuzione in piena regola, senza pietà, senza scampo. Ma il corpo di Gio racconta un'altra storia che sembra uscita da una scena della fiction Gomorra e invece è pura realtà. All'anagrafe era iscritta nel registro della popolazione femminile, eppure Giovanna si sentiva un maschio. Era già intervenuta chirurgicamente per asportare il seno, si vestiva da maschio, parlava come un uomo. Veniva trattata e considerata come un uomo nel mondo spietato e crudele dei pusher, e alla fine i killer l'hanno uccisa proprio come un boss. Tutto è iniziato venerdì sera, quando a Rivoli è sparita misteriosamente nel nulla. L'hanno riconosciuta da un tautuaggio sul braccio, aveva 41 anni, gestiva un bar in via Lussemburgo a Melito, una delle zone dove più radicata, secondo gli inquirenti, l'influenza dei narcos amato pagano, gli scissionisti della faida di Scampia. Aveva avuto un breve periodo di arresti per droga. Ieri suo cognato, accusato di custodire stupefacenti per conto degli scissionisti, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare. E' in questo ambiente, in questo monto dunque, che i carabinieri indagano. La donna avrebbe intascato indebitamente alcuni proventi del traffico di droga, senza versarli nelle casse forti della cosca. Uno sgarro imperdonabile che gli affiliati non le avrebbero fatto passare. Tre proiettili, due in fronte, uno sul torace per punire la ladra. La faida non c'entra dunque. Come rivelano fonti investigative interne, lo scontro tra clan che sta insanguinando all'area nord non sarebbe la causa dell'omicidio di Joe. All'inizio era stata ipotizzata una vendetta trasversale o addirittura un'esecuzione diretta nei confronti di un'affiliata del clan rivale. Niente di tutto questo. Giovanna Rivoli era in affari con il clan e guadagnava dallo spaccio di sostanze stupefacenti, come rivelano anche i suoi precedenti penali. Una mossa sbagliata però le è costata la vita.